Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Talisman in versione Harry Potter, era soltanto questione di tempo prima che uscisse, in questo gioco Talisman, che come sapete è un prodotto della Games Workshop dei lontani fine anni 80, inizi anni 90, ed è un gioco che è uscito praticamente più o meno in contemporanea con il gioco della GV, poi dopo distribuito dal Milton Bradley, che era HeroQuest, ed è un gioco dove, a differenza di HeroQuest, non ci muoveremo su un dungeon, ma sarà una specie di open world con una mappa da esplorare. Un po', come viene nominato sempre in gergo dire dagli appassionati dei giochi da tavolo, del board game, viene sempre chiamato un po' il gioco del loca fantasy, perché fondamentalmente si tira un dado, ci si muove sulle caselle in senso orario o anti-orario, fino ad arrivare poi in fondo alla casella centrale, tirando le conclusioni veloci del gioco, perché c'è molto di più, per vincere la partita, fare la sfida finale e vincerla. E nel corso degli anni il sistema di Talisman è diventata una, tra virgolette, ma nemmeno tanto, una sandbox, perché permette di utilizzare tantissime ambientazioni, cambiando semplicemente qualche piccola regoluccia che poi si adatta a tutto, ma soprattutto la mappa di gioco. Siamo partiti con un Talisman fantasy, medievale fantasy, siamo passati, l'avete visto, per Kingdom Hearts, che vi ho già presentato sul canale, questa volta in versione Harry Potter, ce n'è un'altra che dovrebbe uscire fra non moltissimo tempo, a metà da Gotham City di Batman, e secondo me ne vedremo veramente di cotte e di crude. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Talisman Harry Potter, in questa versione che vedete qui davanti a cura di Asmod Italia, che ringrazio immensamente di cuore, come sempre, per la copia fornita, è la stessa, è una variante dello stesso gioco che abbiamo imparato a conoscere, e per quanto riguarda me e mia moglie adorare, perché è anche uno dei nostri prodotti preferiti, insieme alle case della follia, è una variante ambientata appunto nel mondo di Hogwarts e nel mondo di Harry Potter, divenuto famoso per i romanzi e soprattutto anche per i film. E ora, tra l'altro, il cinema stanno uscendo anche creature fantastiche, il terzo se non erro, con i segreti di Silente. Ed è molto bello come gioco, perché le regole, bene o male, sono sempre le stesse, e poi vi faccio vedere un po' di immagini nel corso del video, dove avremo il tabellone con le zone più famose, che sono la scuola di Hogwarts, con tutti i suoi anfratti, le stanze private delle case, le stanze pubbliche, le aule di studio e quant'altro. Poi avremo anche la parte esterna, quindi il campo del Quidditch, ad esempio, avremo anche la foresta proibita, il platano picchiatore. Però poi, per uscire anche fuori, è andare, che ne so, Hogsmeade, Nocturn Alley, Diagon Alley, e ci sono tutte le location quelle famose. E è ambientato durante la seconda guerra magica, dove si dividono buoni contro cattivi, o meglio, luce contro oscurità, gli auror da una parte, o comunque l'ordine della finisce, e dall'altra parte i mangiamorte. E si arriverà a fare questa seconda guerra magica, dove noi saremo chiamati a combattere o da una parte o dall'altra. E in questa variante è molto, molto, molto interessante, perché introducano, a parte se era già visto il sistema di, c'era anche nel talisman base dell'allineamento del personaggio, buono, malvace, cose del genere. Però qui cambia proprio lo schieramento, perché siamo alleati, si vince, ecco, in questa variante qui diciamo che non c'è più il singolo giocatore che vince, ma si vince come fazione, perché i mangiamorte giocano tutti insieme, e nei mangiamorte ovviamente ci sono, ad esempio, Draco Malfoy, Bellatrix, il padre Lucius, o dalla parte, invece, dell'ordine della felice, c'è Harry Potter, Albus Silente, Hagrid e altri. E giocando come squadra, vince la squadra. Quindi è bellino, c'è molto più il sistema di cooperativa. Però l'ordine della felice e mangiamorte sono uno contro l'altro. Quindi quando vi troverete nella stessa casella, potrete decidere se combattere, sfidarvi, oppure fare gli incontri della casella, o fare l'evento della casella. Quindi le regole sono sempre le stesse di talisman, però ricordatevi che lo scopo finale è quello di arrivare in cima, nella parte centrale, per fare, nel caso dell'ordine della finisce, lo scontro finale contro Voldemort, Lord Voldemort, per i mangiamorte arrivare laggiù e dallearsi con lui. Quindi, quando si arriverà alla fase finale, nel caso appunto dell'ordine della finisce, si andrà a combattere contro Lord Voldemort, che ha magia 12, quindi nel corso della tua avventura, della tua giocata, dovrai fare vari upgrade, per diventare abbastanza forte e andarla a combattere, perché magia 12 vuol dire che tira un dado da 6 e aggiunge 12, quindi non ce la farai mai, se almeno anche te non arrivi ad avere un bonus di perlomeno più 10, più 11, per essere alla pari, per combattertela a carte scoperte contro Voldemort, e soprattutto alla pari. E è molto interessante per questa cosa, perché le regolette un pochino più particolari rispetto alla variante è quella che ci sono delle monetine, che quando vengono girate, dando la possibilità a uno dei due ordini, in finisce un mangiamorti, di acquistare un bonus. Un bonus che tirà semplicemente un più 1 nei combattimenti, un più 1 nelle prove, quelle scritte sulle varie location della mappa e cose del genere, e in più, ogni volta che lo sapete, si tira il dado da 6, ci si muove di 6 caselle in senso orario o anti-orario, o si passa da una zona esterna a una interna utilizzando il treno, quello che porta a Longworth Express, però la regola bellina vuole che sulla mappa c'è anche Voldemort, a parte nella sfida finale, nella zona centrale. Però sulla mappa c'è anche la pedina di Voldemort, che non guida nessuno, a parte quando si tira col dado un 1, e tirando quell'1, non solo il giocatore si muove di 1 dove gli pare, giustamente la sua mossa, però dovrà tirare un secondo dado da 6, vedere quanto fa per spostare Voldemort, e lo può spostare dove gli pare, perché se lo sposta, se va a finire nella casella, dove c'è un membro della fazione avversaria, quindi nel caso 1 dell'Ordine della Fenice, potrà e dovrà combattere direttamente contro Voldemort, e molti rischi di fargli perdere punti ferita, fargli perdere oggetti e cose del genere, quindi comunque vai a bloccare il gioco all'altra fazione, e come vedete praticamente, le regole di Talisman sono sempre le stesse. In conclusione, questo Talisman Harry Potter è veramente una figata assurda, e loro hanno capito, a mio parere, tutto, perché è inutile fare questo gioco, poi lo fai in variante di là, poi lo fai in variante quell'altro, poi lo fai in variante Batman o DC o Marvel o quello che volete, o Star Wars, perché c'è anche quella, è inutile fare 2000 varianti, e complicare un regolamento semplice, che bastano due cavolate a livello di ambientazione di lore, per, secondo me, farti scalare al massimo livello e personalizzarlo, perché qui basta veramente questa piccolezza di Voldemort che si sposta, e altre cose, per renderlo veramente Hogwarts, per renderlo il mondo di Harry Potter, e quindi il regolamento è già talmente perfetto Talisman, che non c'è da aggiungere niente, e ogni volta che esce un'espansione, è soltanto un'espansione dedicata a quell'ambientazione lì, ma ha pochissime regole, perché loro non vogliono complicare un sistema già rodato e funzionante. Io ringrazio di cuore Asmod Italia per avermi offerto questa copia per la recensione, se lo volete ordinare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Giocolibreria Semola, nostro negozio sponsor non solo al miglior prezzo sul mercato, ma come vedete a nota, se usate il codice discount Coridan7, tutto attaccato, tutto maiuscolo, avrete uno sconto del 7%, e se superate la spesa di 79 euro, avete spedizioni postali gratuite in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia, oggi lo ordinate in 24, massimo 48 ore ce l'avete a casa. Quindi è un servizio spettacolare, e se lo trovate in lista, ma è finito sul sito, o proprio scrivete Talisman Harry Potter non c'è, mandate una mail al supporto a Corrado, il proprietario della Giocolibreria Semola, fateli presente che arrivate dal canale di Coridan, e lui farà il possibile, anche se non c'era in lista, per farvela avere. Ovviamente se è un prodotto reperibile, nel meno del tempo possibile, ma il nuovo è appena uscito, quindi si trova praticamente dappertutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, consigliato agli amanti di Harry Potter, ma anche a chi di Harry Potter, onestemente non gli interessa niente, perché è un Talisman veramente, veramente molto interessante, e per me, io spero veramente di riuscire a provarli tutti, e portarveli tutti, perché è un sistema sandbox universale, perfetto per qualsiasi tipo di gioco, e farete vivere una bella avventura, anche magari più piccoli. Ciao ragazzi, alla prossima!